Ciao, benvenuto in questo primo allenamento di Power Walking di Rock Run Roll. Sentirai la mia voce in cuffia che ti motiverà, ti incoraggerà e ti guiderà continuamente. Ti dirò esattamente per quanto camminare e quando aumentare il ritmo. Il Power Walking è una terapia contro la pigrizia e invoglia a volersi bene. Gli sportivi o chiunque pratichi regolarmente attività fisica hanno un cuore più grande dei sedentari, un cuore più efficiente che lavora con minor fatica, minor rischio di intoppi e minor dispendio energetico e una frequenza inferiore di battiti. Il Power Walking, praticato regolarmente almeno tre volte alla settimana, migliora la circolazione venosa, previene dolori, crampi, gonfiori, stanchezza delle gambe e migliora le vie respiratorie. Può dare un contributo decisivo nell'invertire la tendenza ad accumulare peso e stimola la produzione di sostanze regolatrici delle nostre difese. Finalmente, capirai cosa significa Power Walking. Anche se non l'hai mai fatto prima d'ora, oppure hai cominciato e poi smesso, o ti è mancata la motivazione per farlo o senti che metterti a farlo sarebbe un totale fallimento, l'allenamento Power Walking Rock Run Roll ti darà la carica giusta e ti farà sentire in forma come non mai. Il Power Walking può farci ritrovare il nostro ritmo personale e può ristabilire l'armonia tra noi e l'ambiente che ci circonda. Il ritmo dei nostri passi, quello del nostro respiro e del cuore entrano in sintonia tra loro. Se provate a camminare in orari diversi della giornata, avvertirete con maggiore intensità i cambiamenti naturali del vostro corpo.